C'è anche l'Abruzzo tra i 37 progetti di rigenerazione urbana vincitori del premio Creative Living Lab, terza edizione. Sono 1.562 progetti presentati per accedere al finanziamento complessivo di oltre 1.700.000 euro, il premio promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Obiettivi del progetto? Realizzare spazi attrezzati che contribuiscano a trasformare attraverso percorsi creativi la qualità dei servizi e degli spazi di comunità e coinvolgere le comunità stesse. Il color che muove il mondo, capofila del progetto, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Comitato Provinciale di Pescara, Nicola Palombaro. Allora sì, Ampi è capofila, insieme all'Ampi ci sono diverse associazioni, due scuole e altre strutture importanti, ad esempio come la Confcommercio. Per quanto riguarda le scuole abbiamo Pescara 7, l'istituto comprensivo, abbiamo il liceo MIBE e poi ci sono varie associazioni del territorio e tanti 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 professionisti che sono tutti quanti presenti oggi qui a questa presentazione, che ci daranno la linea in qualche modo. Questo progetto consiste nel recuperare alla cittadinanza spazi che attualmente sono inutilizzati, di recuperare anche una parte di memoria, di recuperare una parte di colore, lo vogliamo chiamare così. Siamo una sorta di puzzle, da qui il titolo, il nome del progetto, il color che muove il mondo. Obiettivo del progetto? Per esempio andare a ripristinare, ad esempio ripristinare, restituire dignità alle piste ciclabili per esempio, oppure andare a recuperare in qualche modo quello che era il parco fluviale. Il coordinatore del progetto, Tommaso Di Piasse. Noi abbiamo voluto declinare due concetti fondamentali intorno a questo progetto, quello della resistenza urbana che è intesa come la permanenza dell'identità della città e l'area, la zona che abbiamo scelto è una zona identitaria perché è l'area della marina, del fiume, del mare. L'altro concetto è quello dell'interazione, da non confondere con integrazione. L'integrazione è qualcosa che quando mette insieme due o più punti di vista crea un altro punto di vista, un nuovo punto di vista ed è quello che noi vogliamo fare.